Il crollo di Wall Street del 1929, una catastrofe economica globale. Negli anni 20, gli Stati Uniti attraversarono un periodo di prosperità economica conosciuto come i ruggenti anni 20. Durante questo decennio, il mercato azionario di Wall Street a New York City crebbe rapidamente, alimentato dall'ottimismo degli investitori e dalle innovazioni tecnologiche che stavano trasformando l'economia. Tuttavia, questa crescita esponenziale era sostenuta in gran parte da pratiche speculative e da un uso diffuso del credito. Molti americani, sia ricchi che appartenenti alla classe media, investirono pesantemente nel mercato azionario, spesso acquistando azioni con denaro preso in prestito, acquisti a margine. Le banche, a loro volta, offrirono prestiti facili e abbondanti, incrementando ulteriormente la bolla speculativa. Il 24 ottobre 1929, conosciuto come giovedì nero, segnò l'inizio del declino. Quel giorno, il mercato azionario subì una forte caduta, con milioni di azioni vendute in preda al panico. Nonostante gli sforzi dei principali banchieri di stabilizzare la situazione acquistando grandi quantità di azioni, il mercato non si riprese. Il lunedì nero, 28 ottobre 1929, e il martedì nero, 29 ottobre 1929, videro ulteriori crolli devastanti. Il 29 ottobre, il mercato perse circa il 12% del suo valore in una singola sessione di trading, con 16 milioni di azioni scambiate. Questo fu il giorno peggiore nella storia del mercato azionario fino a quel momento e segnò l'inizio della grande depressione. Le cause del crollo sono complesse e multifattoriali. 1. Speculazione eccessiva. Molti investitori acquistavano azioni non basandosi sui fondamentali economici delle aziende, ma sperando in guadagni rapidi grazie al continuo aumento dei prezzi. 2. Uso diffuso del credito. L'acquisto di azioni a margine significava che gli investitori prendevano in prestito denaro per acquistare azioni, contando sul fatto che il valore delle azioni sarebbe salito abbastanza da permettere loro di ripagare il debito e ottenere un profitto. 3. Squilibri economici. La distribuzione del reddito era molto disuguale, con una larga parte della popolazione che non partecipava alla prosperità economica degli anni 20. Inoltre, la produzione industriale aveva superato la domanda, portando a un surplus di beni non venduti. 4. Politiche economiche. La Federal Reserve aveva mantenuto tassi di interesse bassi per incoraggiare il prestito e l'investimento, ma aumentò i tassi nel 1928 e 1929, rendendo più difficile per gli investitori ottenere credito e aumentando i costi del debito. Il crollo del mercato azionario ebbe effetti devastanti sull'economia americana e mondiale. 1. Fallimenti bancari. Molte banche, gravate dai prestiti non rimborsati, fallirono. Questo provocò una crisi di fiducia nel sistema bancario e una corsa agli sportelli, dove i depositanti cercavano di ritirare i propri risparmi. 2. Disoccupazione di massa. Le aziende, incapaci di ottenere finanziamenti e di vendere i propri prodotti, iniziarono a licenziare lavoratori. La disoccupazione raggiunse livelli senza precedenti, con milioni di persone senza lavoro. 3. Povertà diffusa. La perdita di risparmi e l'aumento della disoccupazione portarono a una diffusione della povertà. Molte famiglie persero le loro case e furono costrette a vivere in condizioni di estrema indigenza. 4. Crisi globale. La crisi economica si diffuse rapidamente oltre i confini degli Stati Uniti, colpendo le economie di molti paesi in Europa, America Latina e Asia. La riduzione degli scambi commerciali internazionali e l'aumento del protezionismo aggravo ulteriormente la situazione. Il New Deal. In risposta alla crisi, il presidente Franklin D. Roosevelt introdusse una serie di riforme economiche e sociali conosciute come il New Deal. Queste riforme avevano lo scopo di rilanciare l'economia, ridurre la disoccupazione e fornire un sostegno diretto ai più bisognosi. Tra le misure adottate vi furono 1. Programmi di lavori pubblici, creazione di posti di lavoro attraverso progetti infrastrutturali come la costruzione di strade, ponti e dighe. 2. Riforme bancarie, istituzione di nuovi regolamenti per il settore bancario. e la creazione della Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC per proteggere i depositi dei risparmiatori. 3. Sostegno agricolo, interventi per stabilizzare i prezzi agricoli e sostenere gli agricoltori in difficoltà. 4. Politiche di welfare, introduzione di programmi di assistenza sociale, come la Social Security Act del 1935, che forniva pensioni ai lavoratori anziani e sostegno ai disoccupati. Il crollo di Wall Street del 1929 fu un evento catastrofico che segnò profondamente il ventesimo secolo. Le sue cause complesse e le sue conseguenze devastanti evidenziarono le vulnerabilità del sistema economico e la necessità di riforme. Le lezioni apprese da questa crisi influenzarono profondamente le politiche economiche e sociali nei decenni successivi, modellando il mondo moderno.